Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Irama. Lo ricordate ad amici di Maria De Filippi prima della sua vittoria? Arriva il cambio look per il famoso cantante toscano. Com'è diventato adesso? Irama. Ad oggi. È senza ombra di dubbio uno dei cantanti più amati del nostro panorama musicale italiano. Eppure. Non è passato così tanto tempo da quando è iniziato il suo successo. Aveva solo 19 anni quando decise di provare ad intraprendere la carriera del cantante. Ma solo pochi anni dopo a 22. Nel 2018 è riuscito ad entrare nella scuola di amici di Maria De Filippi. Che gli ha dato la possibilità di farsi conoscere in tutto il paese con la sua musica e non solo. La sua avventura all'interno della scuola più spiata d'Italia. È cominciata quando Irama aveva a malapena 22 anni appena compiuti. Decise infatti di rompere il suo vecchio contratto discografico e di ricominciare da zero. Una scelta molto coraggiosa ma che alla fine gli è stata premiata. Dal momento in cui non solo ha vinto il programma. Ma ha anche ricominciato una carriera incredibile che lo ha portato a diventare l'artista tanto apprezzato che conosciamo tutti noi oggi. Irama. Lo ricordate ad amici? Arriva il cambio look. Qual è stata la chiave vincente di Irama? Essere un artista dinamico. Continuamente in movimento e in cambiamento. Non si è mai fatto spaventare dalla possibilità di intraprendere nuovi percorsi. Di fare musica diversa e di adottare nuovi look. Proprio come ha fatto in questo periodo. Che ha deciso ovviamente di comune accordo con Errecomi. Di fare un album completamente di fit. In passato. I due si sono trovati molto bene insieme e i loro duetti hanno. Ogni volta. Riscosso un successo incredibile tra il pubblico italiano. Per questa nuova parentesi della sua carriera. Irama ha deciso di adottare un nuovo look. Molto fresco. Estivo e anche piuttosto apprezzato. Filippo è il reale nome di Irama ha tinto i capelli di biondo. Li ha lasciati crescere proprio come qualche anno fa e sta indossando. Sempre più spesso. Delle bandane. Per quanto riguarda gli abiti. Si sta lanciando sul Total Black che si abbina perfettamente ai suoi tatuaggi sulle braccia. Insomma. Irama continua a riscuotere un successo discreto non solo come cantante ma anche esteticamente. Sotto all'ultimo post che ha pubblicato. Infatti. Ci sono molteplici commenti da parte di numerose persone che hanno apprezzato questo suo nuovo cambio di look. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Grazie per aver guardato il video.